Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail. Mondadori Retail, una società che opera nel fisico e nell'online, vende principalmente book, perché è parte del gruppo Mondadori, quindi un gruppo riconosciuto come leader nell'editoria e nel mondo dei magazine. Mondadori Retail oggi è una realtà importante in Italia, oltre i 600 store e più un online store. Siamo qui a Villa d'Este, a Popeye, ringrazio l'organizzazione per questa fantastica opportunità di essere qui e di poter condividere con questa platea così importante un percorso ed una riflessione che credo sia condivisibile da retailer ma anche da parte dell'industria, ovvero l'importanza oggi di riuscire a seguire il cliente, di riuscire a capire il cliente. Oggi più che mai il cliente si muove molto più velocemente rispetto a prima, è molto più fluido, si muove da un canale all'altro in estrema continuità, in estrema velocità, ma soprattutto cambia. Di qui la necessità di riuscire a capire costantemente che cosa il cliente vuole, che cosa il cliente si aspetta. Quindi un'azienda vincente oggi è un'azienda che è aperta all'influenza del cliente, è capace di seguirlo, ma soprattutto poi è capace di integrare perché alla fine quello che vuole il cliente è un'azienda che si è integrata, un'azienda che si è in grado di gestirlo in ogni dove, in ogni canale il cliente si muova. Di qui l'importanza di investire nella relazione. Investire nella relazione oggi significa riuscire ad acquisire delle informazioni, ma allo stesso tempo riuscire a creare i presupposti per il valore. Volevo ringraziare Popeye, tutta l'organizzazione e tutto il team per la fantastica opportunità che mi ha dato di poter essere qui, di poter rappresentare la mia azienda, di poter raccontare a questa platea così importante di retailer e di produttori quella che è stata la nostra esperienza. Un'occasione davvero unica, un'occasione in cui incontrarsi, un'occasione che arricchisce perché confrontarsi credo che sia fondamentale per tutti i business indipendentemente dal settore in cui operiamo. Quindi davvero un grazie a tutti. Grazie a tutti.